Grande successo per la sesta edizione della mezza maratona Corri e Cammina Lecce, organizzata dalla situazione ASD GPDM con il patrocino del Comune di Lecce e che ha visto una partecipazione di oltre 2500 maratoneti. Una vera e propria festa dello sport, peccato però che gli atleti hanno dovuto correre tra smog e auto. Infatti lungo il percorso della gara non tutte le strade sono state chiuse al traffico. Sulla questione è intervenuto Fabrizio Marra, segretario del PD di Lecce. Rilevo che neanche l'importante manifestazione podistica svoltasi domenica ha smosso le coscienze degli amministratori leccesi perennemente affezionati al transito delle auto indiscriminato per le vie della città barocca. Vedere migliaia di persone correre in mezzo alle auto e allo smog per alcuni tratti, come su Viale Gallipoli, Viale dell'Università e Via Calasso, lascia comprendere a differenza di analoghe manifestazioni in altre città d'Italia, quali Roma, Milano, Firenze e Bari, che il capoluogo salentino sia culturalmente molti decenni indietro rispetto ad un'idea di mobilità compatibile con l'ambiente e lo sport. Infatti, ha commentato il segretario del PD, in tutte le altre manifestazioni dello stesso tenore nei diversi centri urbani di gran lunga più estesi per dimensioni rispetto a Lecce, l'interdizione ai veicoli a motore durante il periodo di svolgimento delle attività sportive e per tutto il loro percorso è totale. Tale scelta, fatta indistintamente da amministrazioni di destra e di sinistra, dal nord al sud Italia, è dettata dall'idea di liberare la città per qualche ora dalla morsa dello smog e del traffico, permettendone la fruibilità a tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi in una sana attività all'aria aperta, lontano dai rumori e dall'inquinamento, permettendo così di poter godere del silenzio e delle bellezze che la città offre. Ancora una volta, scegliere di far prevalere il passaggio indiscriminato delle auto anche su lunghi tratti destinati alla maratona, pochi metri dal transito dei corridori, quando in altre città si devia addirittura il percorso dei mezzi di trasporto pubblico al fine di rendere pienamente fruibile il tratto podistico, la dice lunga sulla nostra arretratezza culturale in tema di mobilità. Persino gli amministratori della città di New York, un po' più grande della nostra lecce, conclude ironicamente Marra, sono riusciti a realizzare la chiusura al transito veicolare del ponte di Brooklyn per consentire la fruibilità agli iscritti della famosa maratona, mentre nel capoluogo barocco si ritiene ancora improponibile chiudere completamente due o tre strade per poche ore.